Molto importante è il confronto con gli altri artisti, io lo considero fondamentale, premesso che l'artista è solo, segue i suoi fantasmi, segue i suoi desideri, il discorso che cerca strade nuove, quindi chi cerca strade nuove difficilmente, però avere altri compagni in questa strada è molto interessante, infatti amo molto i grandi movimenti perché ci sono stati movimenti che hanno cambiato la storia dell'arte in cui uno comunque poteva essere totalmente libero, i surrealisti con le loro personalità variegate e sì forse qualcuno litigava con l'altro, avevano idee anche molto diverse, però non il traino ma essere in un movimento che cambia le cose è molto bello per l'artista anche. Grazie.